Andre Hercel ha detto che ha guadagnato tutto ciò che ha lavorando sodo e lottando. Hercel ha detto, ho gestito tutto da solo. Anche nei giorni più difficili non ho avuto il lusso di arrendermi. A volte mi stanco e mi sento a pezzi. Ecco le dichiarazioni di Hercel. Andre Hercel ha rilasciato un'intervista alla rivista Marie Claire. L'attore ha detto, vivo una vita normale. La mia vita quotidiana è normale e pacifica. Come puoi immaginare, è calma e pacifica. Le mie routine con la mia famiglia, gli amici, i cani mi rendono felice. Naturalmente, la popolarità ha i suoi limiti. A volte mi stanco e mi rompo, ha detto. Tutto quello che ho, l'ho ottenuto con il duro lavoro. Non potevo permettermi di arrendermi. Ho avuto la mia forza dal lavoro. Ecco le dichiarazioni di Andre Hercel. I social media sono un potere incontrollato. Non credo sia salutare. La pittura è il modo migliore per esprimere i miei sentimenti. Quando disegno, dimentico tutto. Posso interpretare qualsiasi ruolo la cui sceneggiatura mi attrae. Non ho limiti su questo. Il mio più grande modello è mia madre. In ogni fase della mia vita, in ogni situazione che mi capita, prendo come esempio la sua posizione retta, il suo spirito libero e la sua gioia senza fine. Non sono una persona alla moda. Non ho nessuna chiamata. Non mi interessa il marchio. Consumare con cautela. Andre Hercel ha attualmente 29 milioni di fallowar. Più di 80 serie senza il KPM. Andre Hercel è molto apprezzato come nome che non cade dai social network dopo la sua pubblicazione nel paese. Ne parliamo tutto il tempo. Sebbene Hercel non sia coinvolto in un progetto da molto tempo, lo è sempre stato. Sull'agenda. Infine, le pose che ha fatto nella rivista Marie Claire Turkey sono state molto apprezzate dai suoi fan sui social media. L'attrice è andata a Budapest per foto in bianco e nero EA colori. Rivista di ottobre con le loro pose per le strade storiche della capitale ungherese Budapest. Adorna il numero di giocatori. Queste pose impressionanti nei servizi di moda sono anche nell'agenda di Twitter. Ha preso il suo posto ed Hercel ha attirato ancora una volta l'attenzione con i suoi straordinari post sui social media.